Musica Allora, chi sei tu? Giulio Giulio? Ho 5 anni, vado in prima elementare Sono Andrea, ho 7 anni e vado nella seconda B Ciao, mi chiamo Francesca Caccelliere e frequento la scuola a cantini Ciao, sono Davide Paregnana e ho 8 anni e mi piace molto giocare a bene Sono Luca Centorino, ho 16 anni e ho giocato a San Lazzaro per 9 anni, nel San Lazzaro Baseball Fino all'anno scorso giocavo nella categoria cadetti e quest'anno, non questo inverno, ho dato la disponibilità per aggare la squadra di ragazzi del mini baseball comparsa da ragazzi che fanno parte delle scuole elementari Musica Ciao, sono Maria Tarantino la mamma di un bambino che è iscritto a baseball di San Lazzaro sono venuta a conoscenza di questo sport educativo attraverso la scuola lui è soddisfatto io lo devo seguire un po' a volte faccio fatica, me lo facciamo valentieri Giulio attraverso il baseball sta superando un po' anche quella insicurezza lui interagisce con gli altri bambini a modo di fare gruppo squadra con gli altri e si impegna anche quando come interesse personale cioè lui vuole colpire la palla lui cerca di essere concentrato Ciao, io sono Damiana Gadaletta sono la mamma di un bambino che frequenta l'attività di baseball lui frequenta questa attività da due mesi e sono molto contenta perché è uno sport che mi piace molto uno sport di squadra però sviluppa molto anche delle attitudini individuali come la concentrazione e l'attenzione dopo tante volte, tante prove fatte in passato con altri sport che non sono mai andate a buon fine questa volta finalmente mio figlio riesce a frequentare sono già due mesi che lo fa e ha la volontà di continuare per cui sono molto contenta e quindi spingo tutte le mamme a fare questa esperienza Buonasera, sono Renato Di Martino e sono il presidente del San Lazzaro 90 Baseball come dice il nome, San Lazzaro 90 fa attività dal 1990 ci occupiamo della diffusione del baseball e cerchiamo di dare una mano alle famiglie in un percorso di crescita dei bambini che non è semplicissimo la squadra che abbiamo ripreso oggi è una squadra di bambini del primo circolo didattico di San Lazzaro insieme agli amici del pianolo softball abbiamo fatto questo progetto in collaborazione con la dottoressa Loiero che è la direttrice del primo circolo didattico siamo riusciti a fare questa squadra che partecipa a questo torneo che si chiama Città di Bologna Junior ed è fatta apposta per i bambini piccoli piccoli che per la prima volta si avvicinano a un baseball l'obiettivo nostro è di continuare sono vent'anni di esperienza speriamo di continuare portare sempre più bambini a giocare nel baseball che in realtà è un gioco bellissimo anche se è poco conosciuto ed è estremamente formativo grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti